Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Alessia Marcuzzi stupisce. Esce di casa a Roma in pigiama, diretta alla stazione Termini. Sale sul treno, direzione Milano. Una volta arrivata in città gira per il centro, zona Duomo. Per lei anche un cuscino. La 49enne ha un appuntamento importante e sul social svela perché ha adottato questo curioso outfit. Ad un certo punto, mentre cammina, intravede dei carabinieri ed esclama «Oh mio Dio, non mi arresteranno mica!» Mentre l'amica, che la accompagna in questa misteriosa e folle avventura, risponde «Se ti arrestano vengo anche io». Ma cosa sta accadendo? Perché Alessia Marcuzzi vaga per le strade in pigiama? A svelarlo è proprio lei attraverso una delle sue storie su Instagram. Nel video indossa un pigiama in seta color verde cobalto. Abbina anche la mascherina da notte al capo, che indossa con nonchalance. Ai piedi porta graziose e calde pantofole da camera, in pelliccia sintetica. Sorridente, scherzosa, ha deciso di indossare questo look per il suo imperdibile pigiama Cordillus Beauty, alla Rinascente, dove ha appena inaugurato il corner del suo brand di prodotti beauty. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.